Era un dialogo che in qualche modo si era già avviato, certamente io penso che sarebbe importante un accordo che comprenda sia la parte civile, quella di cui si è parlato maggiormente, sia la parte militare. Mi auguro che l'incontro fra il ministro Calende e il ministro dell'Industria francese possa fare dei passi avanti, quindi che non sia una strada chiusa, ma condivido quanto hanno detto i ministri Calende e Padua, l'Italia non farà un passo indietro, non è accettabile che ci possa essere una maggioranza coreana, prima era il 66%, non si accetti una maggioranza italiana, quindi su questo non ci muoveremo di un millimetro, ma speriamo invece che aprendo anche ad un ragionamento più approfondito sulla parte militare possa esserci un accordo complessivo.